Buongiorno, buona domenica, sono davanti alla chiesa di Massa di Faicchio. Oggi è la quarta domenica d'Avvento, domenica 20 dicembre, e l'Evangelo è quello di Maria che riceve l'annuncio dell'Angelo. Ci sarebbero, come ben pensate, infinite cose che potremmo dire, però oggi sono rimasto un po' incagliato nella frase Nulla è impossibile a Dio, che oggettivamente io non so spiegare, però rilancio con alcune domande che spero abbiano la possibilità di essere in qualche modo risolte dalla vostra preghiera, dalla vostra meditazione. Credo che innanzitutto vada riconosciuto che nel testo Nulla è impossibile a Dio, che a noi risuona come Dio può fare tutto, sia soprattutto però riferito al segno che l'Angelo, senza che Maria lo chieda, propone della gravidanza di sua cugina Elisabetta. Quindi ti dico che Elisabetta sta aspettando un bambino, perché appunto Dio ha potuto fare anche questo. Quindi come per dire che certo Dio può fare tutto, ma non è che sia disponibile a fare qualsiasi cosa, soprattutto tutto quello che a noi viene in mente. Dio può fare tutto nella ottica, sembra qui in questo testo, di aiutarci ad arrivare davvero all'impossibile supremo che è la morte in croce e la risurrezione del Signore. Poi certamente noi dobbiamo forse un po' allargare, ecco, tutto è possibile per chi crede, tante frasi di questo tipo che nel Vangelo ci rallegano l'anima e il cuore, e tanti impossibili che Dio opera, soprattutto facendoci vedere tutto questo nelle parabole. quasi tutte le parabole sono impossibili che vengono realizzate. L'impossibile è anche la salvezza di Zaccheo e tante altre cose che possiamo vedere. E allora forse vale la pena allargare, no? tutto posso in colui che mi dà la forza. Una frase di Paolo ai filippesi. Oppure tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Cioè c'è una moltiplicazione di desideri, di bene, che il Signore opera nella nostra vita e questa forse è la radicale provvidenza che noi possiamo desiderare, che possiamo ottenere. Per cui tutta la storia in qualche modo davvero potrebbe certamente essere piena di miracoli infiniti, ma soprattutto è capace di portarci alla pienezza della salvezza. Con un'umanità che dilata in qualche modo forse anche i desideri di Dio nei nostri confronti. Dico questo pensando alle nozze di Cana, dove Maria come strappasse, è lì come se potesse strappare un segno al Signore che in quel momento non era particolarmente propenso a fare quello che Maria gli sta chiedendo. Quindi tutto, niente è impossibile a Dio, certamente vuole dire tante cose, ma credo che soprattutto Dio abbia già fatto tutto quello che era necessario per noi, sta a noi dilatare il nostro cuore per far entrare tracce di questo infinito nella nostra esistenza. Buona domenica. Ciao.